L'uovo di Pasqua non poteva essere più ricco per Mr. Serniotti e la sua Trentino Dietic. Già rassegnati alla chiusura anticipata di stagione con l'uscita dai play-off per la corsa a Scudetto e un posto in Copacev prenotato per l'anno che verrà, Birarelli e compagni stavano già preparando le valigie, quando, nella settimana santa, è arrivata la sorpresa. Wild card per il Mondiale per Club che si trerà in Brasile dal 5 al 10 maggio. Valigie riaperte, tutti in palestra a preparare l'evento pur senza troppe aspettative. Sono tutte partite secche, noi se dobbiamo arrivare tirati al massimo cerchiamo di essere pronti a fare il risultato meglio che possiamo. Il tempo c'è perché comunque noi eravamo in una condizione buona, eravamo in una condizione per giocare i play-off, adesso abbiamo ancora due settimane piene, due settimane e mezzo per lavorare, sono sicuro che arriveremo bene. Mr. Serniotti ha voluto comunque alleggerire il carico dei suoi giocatori concedendo loro due giorni di break per Pasqua e Pasquetta. Si torna in palestra martedì mattina con una doppia seduta di pesi e palla, in attesa dell'ufficializzazione delle date del mondiale e soprattutto di sapere chi saranno le componenti del girone dei Trentini, ecco gli auguri ai tifosi del palleggiatore Giaccentini. Auguri di buona Pasqua a tutti i tifosi Trentino Volley e a tutti quelli che ci seguono.